In occasione della festa della donna parliamo anche dell'impegno delle donne nel mondo delle imprenditorie ma anche nel mondo della politica e quali le misure che possono ulteriormente favorire la parità di genere. Ne parliamo con la nostra ospite, il buongiorno a Barbara Preziosi, imprenditrice nonché coordinatrice di Italia Riva per la provincia di Napoli. Buongiorno, grazie di essere qui con noi oggi. Tra l'altro insieme commenteremo un giorno particolare, in questo giorno festa della donna in cui non possiamo non estendere un pensiero a tutte le donne che stanno purtroppo vivendo in prima persona l'orrore della guerra in Ucraina. Assolutamente, quest'anno è un 8 marzo che si apre, diverso dal solito, in uno scenario completamente nuovo. C'è la guerra, c'è la guerra si può dire a casa nostra. Io vorrei celebrare questo 8 marzo assieme alle donne ucraine che stanno resistendo e combattendo una guerra portando via i loro figli da una terra che è martoriata. Stanno andando via dal loro paese, stanno lasciando i loro affetti, i loro uomini sono madri, figlie, sorelle che lasciano il loro paese per arrivare in una terra sconosciuta dove non si parla neanche la loro lingua. Vorrei dedicare un pensiero anche alle donne russe che scendono in piazza per protestare contro una guerra che per loro ovviamente è ingiusta. E vorrei che il loro abbraccio potesse essere, unire, unire e essere tutti noi portavoci di... Esatto, portavoce, è importante proprio questo termine. In che modo le donne, quindi russe, ucraine, ma anche le donne, tutte quante noi delle diverse nazionalità possono contribuire con il loro supporto a restituire il messaggio di pace, essere promotrici. Promotrici di la pace, assolutamente. E diciamo anche le donne in Italia stanno facendo assolutamente un grande lavoro, accogliendo bambine, bambini e donne sole e impaurite. Lo stanno facendo nel migliore dei modi. L'accoglienza è veramente straordinaria, quindi vorrei ringraziare tutte le nostre donne che stanno facendo questo lavoro straordinario. È vero, è un impegno quello delle donne che coinvolge veramente tutti gli ambiti della società a partire anche dalla politica. E se è vero che non siamo riusciti ad avere il primo presidente della Repubblica Donna, è vero che bisogna riconoscere che in questi anni qualcosa si è mosso, qualche passettino in avanti lo abbiamo respirato. Sì, diciamo che negli ultimi anni l'Italia si sta adeguando un pochino a quelli che sono gli standard di altri paesi. Stiamo facendo dei grandi passi avanti e diciamo anche noi di Italia Viva, al governo, stiamo spingendo con le nostre nuove norme, perché i nostri parlamentari stanno facendo un grande lavoro per far sì che le donne possano far sentire la loro voce in politica. La voce delle donne in politica è fondamentale perché è un punto di vista ovviamente nuovo e diverso, un punto di vista critico, un punto di vista conciliatore. E' utile essere concilianti in politica, è un punto di vista diciamo critico ma anche costruttivo. E infatti proprio per questo che noi in Italia Viva proponiamo il nome di una donna come Angela Merkel che possa sedersi al tavolo delle trattative e quindi riportare un attimo di politica e di equilibrio tra la Russia e la China. Esatto, in questo nostro sistema geopolitico. Tra l'altro, ritornando proprio all'aspetto della politica e all'aspetto dell'Equoterosa, ricordiamo che molte volte noi abbiamo parlato di questo tema, ovvero quello delle quote rosa in politica, per tanto tempo, non dimenticando però che dieci anni fa entrò in vigore la legge Golfo-Mosca sulle quote rosa nei consigli di amministrazione delle società anche quotate e partecipate. Possiamo dire che da loro in poi la presenza della quota rosa, quindi la presenza delle donne nella politica, ha raggiunto il 40%, quindi una stima sicuramente positiva rispetto agli ultimi dieci anni. Assolutamente, sì, sono stati fatti dei grandi passi in avanti e saranno, sono stati fatti dei grandi passi in avanti anche in questi giorni perché proprio il Ministero delle Pari Opportunità ha favorito in legge di bilancio delle norme che favoriscono soprattutto la parità salariale della donna, la parità di genere anche all'interno delle aziende soprattutto, quindi ad esempio se aziende con più di 15 dipendenti vogliono accedere ai 200 miliardi messi a disposizione da PNRR, devono assolutamente fornire tutte quelle garanzie quindi di assunzione, di regolazioni per le pare opportunità all'interno della propria azienda. Questo è un aspetto molto importante perché è vero, insomma, legati a questo aspetto la presenza della figura femminile nella politica del 40%, però in realtà dobbiamo fare ancora di più rispetto alla parità di genere e su questo aspetto, lo ha anticipato lei, c'è il contributo salariale perché nel mondo del lavoro il gender gap è ancora molto presente, è ancora molto marcato quindi c'è ancora da fare da questo punto di vista? Sì, 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 stiamo lavorando tantissimo al governo, appunto ripeto, insieme al Ministero delle Pari Opportunità proprio per favorire un welfare adeguato e non dimentichiamo che dal primo marzo è anche entrato in vigore l'assegno unico che diciamo aiuterà le famiglie, aiuterà le donne nel lavoro Esatto, non dover scegliere, perché ricordiamo abbiamo vissuto un periodo molto drammatico recentemente, durante la pandemia, laddove la carenza o la perdita dei posti di lavoro era naturalmente riscontrabile nelle donne piuttosto che negli uomini e questo sicuramente ha lanciato ancora di più un grido d'allarme Questo non dovrà più succedere chiaramente, la donna non dovrà più essere costretta a scegliere tra lavoro e famiglia, proprio per questo che con l'assegno unico e quindi anche con il pacchetto di misure messe in atto dal Family Act, voluto fortemente dalla nostra Ministra Irabbonetti insomma sarà un grande aiuto per le famiglie, perché ci sarà l'assegno per i figli quindi 250 euro a figlio, quindi dai 7 mesi fino ai 21 anni ci saranno aiuti, incentivi per le scuole, per gli asili nido si potrà avere un contributo per il lavoro anche domestico per cui insomma sarà una forte boccata d'ossigeno per le famiglie Esatto, questo naturalmente non ci può fa che ben sperare tra l'altro c'è anche un altro aspetto che vorrei commentare con lei perché pochi giorni fa l'Assemblea d'Italia Viva allora io le chiedo quale sarà il contributo del partito guidato da Matteo Renzi da qui alle prossime elezioni politiche perché superato il bipolarismo definitivamente secondo lei le prossime saranno le elezioni del centro Allora, l'Assemblea d'Italia Viva ovviamente si è aperta anche anche l'Assemblea è uno scenario ovviamente drammatico Diverso, però per noi è stata un'occasione per ritrovarci dopo due anni di pandemia in cui ci vedevamo soltanto in video per ritrovarci e parlare di quello che farà Italia Viva in questi 12 mesi perché Italia Viva non starà al governo ad aspettare questi 12 mesi che insomma senza lavorare noi continueremo il nostro lavoro lo faremo con le nostre proposte e i nostri progetti e le nostre riforme ecco andremo avanti, non staremo assolutamente fermi diciamo che il bipolarismo come diceva lei insomma sta finendo abbiamo visto una destra totalmente spaccata e divisa durante le elezioni del Presidente della Repubblica tra l'altro insomma c'è stata quella brutta parentesi riguardo al proporre una donna di tutto rispetto insomma e diciamo anche la sinistra ha perso quello che è la sua radice diciamo il suo riformismo che era all'interno per cui diciamo adesso si è creato un grande centro un grande centro che già esiste e che continuerà a lavorare ce la faremo in questo periodo, in questo arco temporale diciamo che insomma la legge elettorale a mio avviso non cambierà non ci sono i tempi per cui insomma andremo avanti così a lavorare con le nostre riforme senta intanto avete in programma una vera e propria iniziativa da realizzare nelle piazze di cosa si tratta nel preciso? allora si tratta di un'iniziativa che si chiama Mille Piazze e ci vedrà insomma nelle piazze italiane a distribuire il nostro materiale quindi le nostre idee, le nostre proposte a parlare di nuovo con i cittadini quindi questo contatto con il pubblico che comunque si era perso perché la pandemia chiaramente non ha consentito più di essere esattamente a contatto con i cittadini e inoltre ci sarà a settembre partirà di nuovo il camper di Italia Viva quindi partirà da Verona e arriverà in tutte le piazze italiane a marzo appunto ci saranno queste mille piazze in cui noi saremo diciamo Matteo Renzi ha anche dettato l'agenda di Italia Viva per quest'anno fino a novembre per cui vedremo ad aprile uscirà tra l'altro il suo nuovo libro che parlerà di giustizia poi a maggio ci saranno le elezioni amministrative che ci vedrà molto sentito tra l'altro quello della giustizia anche dal dibattito non solo pubblico ma anche quello proprio assolutamente assolutamente e a giugno ci saranno quindi ci sarà l'assemblea degli amministratori poi ci sarà la scuola di politica di formazione politica che quest'anno si farà a Ventotene e a settembre si partirà poi con il camper in giro per le piazze Senta, in conclusione 8 marzo qual è l'augurio da imprenditrice e quale è che lei vuole rivolgere oggi alle donne? Beh, io mi auguro che le donne trovino la forza per andare avanti in questi tempi duri le donne sono diciamo resilienti e resistenti per cui come abbiamo visto riescono a conciliare il mondo del lavoro della famiglia e insomma mi auguro che riescano E che possano essere soprattutto in questo periodo delicato storico essere effettivamente le promotrici della pace assolutamente Grazie a Barbara Preziosi imprenditrice e coordinatrice di Italia Viva per la provincia di Napoli grazie di essere stata con noi oggi Grazie a voi Piccolo break restate con Mattina Live Grazie a tutti